Grazie Presidente, grazie Commissaria. Gli errori di questa guerra continuano sotto gli occhi a suoi fatti di molti di noi e con il bene placido di gran parte della comunità internazionale. I bombardamenti si moltiplicano, le vittime civili aumentano. Chi può lascia tutto e fuggi, alimentando i flussi verso l'Europa, che questa volta accoglie, che attiva una direttiva e che si mostra solidale, viva Dio, ma che purtroppo fallisce nell'opportunità di creare una riforma sistemica delle politiche di migrazione ed asilo. E allora chiedo alla Commissione, saremo in grado in un futuro, che ritengo molto prossimo, di far valere anche i diritti di quei cittadini di tante parti dell'Asia, dell'Africa, che dipendono dalla Russia e dall'Ucraina per il loro fabbisogno alimentare? Consenteremo loro di bussare alle nostre porte, così come abbiamo fatto con i cittadini ucraini? Oppure li considereremo delle vittime della strumentalizzazione? O peggio ancora, li respingeremo come nemici, magari anche con la complicità di qualche agenzia europea? Grazie.